Amici di Tecnandroid.it, benvenuti, oggi andiamo a vedere come disattivare gli aggiornamenti di Windows 10 Perché vi starete chiedendo, abbiamo effettuato questa guida? Logico, perché molti di voi utilizzano uno smartphone Android per connettervi alla rete e come ben sapete gli abbonamenti o i pianidati hanno un limite di gigabyte che potete utilizzare durante il mese Windows 10 con l'introduzione di aggiornamenti automatici consuma una buona parte di questi gigabyte Per disattivarli è molto semplice, cliccate sul tasto Start, andate in impostazioni e troverete la voce rete e internet Eccola qua, scorrete in basso fino a trovare opzioni avanzate, cliccate su di esso e selezionate qui in posta come connessioni a consumo Ecco fatto, lo abbiamo attivato, in questo modo non verranno scaricati gli aggiornamenti Ricordatevi che ogni volta che cambiate comunque connessioni dovete rieffettuare la stessa identica operazione Quindi per ogni scheda di rete dovete attivare l'apposita voce Per oggi è tutto, continuateci a assicurare sul nostro sito www.tecnandroid.it ed iscrivetevi al nostro canale Grazie a tutti per averci seguito